Su 178 tamponi rapidi effettuati a Ribera nelle ultime ore sulla popolazione scolastica sono 22 gli studenti che sono risultati positivi. Dai successivi accertamenti è venuto fuori che altre 11 persone tra docenti e familiari di questi studenti sono risultate anch'esse positive al covid per un totale di 33 soggetti. A confermare questi dati al nostro telegiornale il sindaco Matteo Ruvolo il quale se da un lato si dice preoccupato dall'altro dichiara di voler aspettare l'esito dei tamponi molecolari di verifica prima di assumere qualsiasi ulteriore decisione. Spero si sia trattato di una fornitura di tamponi rapidi difettosi come quelli effettuati a Sciacca nelle settimane scorse dichiara il sindaco al nostro telegiornale. Erano stati effettuati fino alla giornata di giovedì circa 830 tamponi ed erano risultati positivi soltanto tre soggetti, tre alunni che erano stati posti in isolamento dopo la verifica del tampone molecolare. Ieri purtroppo su 178 tamponi 22 alunni di diverse scuole di Ribera sono risultati positivi al test rapido. Allora abbiamo fatto chiamare anche i genitori, alcuni docenti che si sono sottoposti al test e in totale poi il risultato positivo è diventato di 33. E' stato fatto il tampone molecolare non solo ai 33 ma ad altre 33 persone, cioè i familiari dei ragazzi risultati positivi. E quindi aspettiamo l'esito del tampone molecolare perché ci darà l'esito certo effettivo del dato che è venuto fuori dai test rapidi. Io se devo essere sincero mi auguro che sia stata una partita di tamponi difettosa così come è avvenuto qua da voi a Sciacca, però è necessario attenzionare con serenità, con prudenza e aspettare il dato del molecolare. Oggi continua l'attività di screening, saranno sottoposti altri 200 circa scolari e docenti al test rapido. Vediamo un attimo l'esito dei tamponi di oggi, dopodiché valuterò che cosa fare nei prossimi giorni. Dall'esito dei tamponi di verifica dipenderà dunque la riapertura o meno, lunedì prossimo, delle scuole cittadine. È fondamentale avere il dato dei tamponi di verifica, dopodiché deciderò se riaprire le scuole, se riaprirle tutte o parzialmente perché il dato che è venuto fuori dai tamponi la settimana scorsa, perché abbiamo iniziato con i ragazzi che frequentano i bimbi, che frequentano la scuola dell'infanzia, ha dato un esito negativo quasi per tutti tranne un solo bimbo. E quindi non escludo, perché quelli di ieri erano soltanto alunni di scuola primaria e di scuole medie, che magari io potrei riaprire le scuole per la scuola dell'infanzia, anche perché ritengo che sia giusto per i bambini sotto il periodo natalizio magari avere quella opportunità di fare lavoretti in classe, le maestre che avevano preparato tutto il lavoro. Quindi ritengo che sia giusto anche per i bimbi avere questa opportunità, se i dati mi confortano in questa direzione. Valuterò invece per la scuola primaria e secondaria di primo grado, considerato che loro fanno scuola a distanza, la didattica continua non in presenza ma a distanza, magari valuterò, ma ripeto, prima voglio avere l'esito dei tamponi di oggi e di domani, la possibilità di fare un'ordinanza che parzialmente riapre le scuole e in parte fa restare a casa i ragazzi a studiare.